Questa è tipo una trottola che ho inventato qualche mese fa e devo dire sta avendo proprio un bel successo. Guarda, il suo sorriso è forte. No, è proprio forte. Perché non capisci mai se stai ridendo, se sei triste. Questa invece è una fionda che ho inventato qualche mese fa e praticamente funziona che tu prendi un sasso, ti metti la cordicina e colpisci la persona che non ti sta particolarmente simpatica. Comunque, il suo sorriso che hai, guarda, è forte perché mi mette proprio una simpatia nei tuoi confronti. Proprio non so come definirti, una persona gioconda. Ecco, non trovo altre parole per definirti. Tu sei proprio una grandissima gioconda. Questa è una balestra, questa è una balestra che ho inventato, perfezionato per colpire le persone che non ti rispondono quando li parli perché sono troppo impegnata a guardarti con quel sorrisetto enigmatico come se fossero troppo superiori per parlare con questo cretino che li parla da due ore.